Maschio, età media di 46 anni, giocatore di slot machine, con qualche anno di gioco problematico già alle spalle e debiti accumulati in maniera significativa. Questo l'identikit del giocatore d'azzardo che si rivolge al Zerto di Arezzo, che si trova in via Fonte Veneziana. I dati arrivano proprio dal Dipartimento delle Dipendenze, dove solamente nel 2015 per il gioco d'azzardo sono state prese in carico 220 persone, un tasso di prevalenza tra i più alti della Toscana. Un dato ancora più allarmante arriva dalle tendenze dell'ultimo periodo, perché a chiedere aiuto al Zerto arrivano sempre più giovani tra i 20 e i 30 anni, attratti in particolar modo dalle scommesse sportive e dai giochi in internet come il poker online. Un discorso a parte va fatto per le donne giocatrici. Tra l'utenza che si rivolge negli ultimi anni al Zerto, le donne sempre più prediligono le slot machine. Gioco fino a qualche anno fa prerogativa degli uomini. Le donne infatti spesso giocano per sfuggire la solitudine, la noia, lo stress e sono le cosiddette giocatrici per fuga. Al contrario degli uomini che invece giocano prevalentemente per competere, per provare il brivido della sfida e sono detti giocatori d'azione. Le giocatrici invece hanno spesso un percorso più rapido verso il gioco patologico, pun iniziando a giocare più tardi degli uomini dal punto di vista dell'età, ma manifestano problematiche e danni correlati al gioco più precocemente. Proprio su queste problematiche sempre più preoccupanti, il Cert di Arezzo, in collaborazione con Mi Rimetto in Gioco, l'associazione di ex giocatori e loro familiari presente nel territorio dal 2007, organizza due incontri di informazione e sensibilizzazione sul gioco d'azzardo patologico rivolti alla popolazione. Il primo domani sabato 28 maggio, il secondo invece si terrà giovedì 9 giugno.